Allora siete pronti a farlo con noi il percorso di quest'acqua? Presentiamo allora a questo punto il dottor Mario Dal Grande, chimico della società Acque Veronesi, affiancato dal dottor Donato Martinelli, nostra bella vecchia conoscenza, medico dirigente del SIA dell'azienda US20 ed è responsabile del servizio igiene, alimenti e bevande. Dottor Dal Grande, intanto qua che cosa vediamo? Qui vediamo la sorgente Fontane, è una sorgente che capta l'acqua naturale dei defluvi che ci sono qua nella zona, è un'acqua di sorgente che viene poi trattata con la disinfezione più a valle. Abbiamo detto che siamo a Velo Veronese quindi l'altitudine grosso modo è? Siamo intorno ai circa 1000 metri. Quindi qua è il momento della captazione e poi che tipo di percorso fa quest'acqua? Quest'acqua una volta captata viene portata da cielo, dalla pioggia, viene captata attraverso gli impluvi naturali, poi c'è la risorgiva proprio qui sulla sorgente, da qui c'è un tubo che la porta in un serbatoio dove viene disinfettata e poi da lì ci sono le pompe per il lancio per la distribuzione nella rete idrica dell'acquedotto. Le caratteristiche all'origine alla sorgente di quest'acqua? Beh, questa è un'acqua di montagna per cui ha caratteristiche leggermente diverse da quelle della pianura. C'è un basso contenuto di nitrati, siamo a circa 9 mg litro, una durezza sostanzialmente in linea con le caratteristiche dell'alimentazione, cioè circa 26-27 gradi francesi di durezza, contenuto di bicarbonati intorno ai 150 mg litro e un pH intorno ai 7-9, che significa un po' un'acqua un po' bicarbonatica che prende appunto i carbonati durante il percorso attraverso le rocce su cui staziona. Per dirlo chiaro a chi ci sta osservando e ascoltando, acqua buona? Acqua molto buona, acqua di montagna molto buona, molto buona. Quante le sorgenti sul territorio montano di cui potete disporre? Noi qua in Lessinia disponiamo di 43 sorgenti, tutte dello stesso tipo di quelle che abbiamo visto poco fa. Abbiamo visto che grosso modo l'erogazione è quella. Viene da chiedersi come mai un'erogazione così minima e un servizio così dilatato. Com'è possibile? Proprio perché abbiamo un mucchio di sorgenti e di serbatoi dispersi su tutto il territorio della Lessinia. E intanto dove siamo arrivati noi? Questo è il serbatoio Fontani, un serbatoio di accumulo che serve a accumulare l'acqua durante periodi di meno utilizzo, soprattutto la notte, per tenerlo bello in pressione durante il giorno quando poi si usa. Dottor Martinelli, abbiamo visto la qualità chimica di quest'acqua, ma sotto il profilo salutistico? Direi che si tratta effettivamente di un'acqua salutistica. Peccato che ne abbiamo poca purtroppo, peccato quello. Ebbè, insomma, un'acqua che ha un pH di 7.9, quindi un pH decisamente basico, direi un'acqua che ha un grande interesse, direi proprio, ribadisco sotto il profilo salutistico, perché aiuta e fa prevenzione verso le malattie renali. Ecco, poi abbiamo un tenore di nitrati così basso, ma solo qua, però purtroppo, e lì sappiamo che nitrati significa nitrosamine, tanto famigerate nitrosamine. Qui abbiamo un tenore di nitrati 9, 8, 9, contro un valore massimo, ammesso per legge, di 50, quindi decisamente molto basso. Questo per dire solo alcune caratteristiche, ma allo stesso modo anche il residuo fisso così basso, residuo fisso significa presenza di sali in generale, anche questo molto basso. Ripeto, è un'acqua che serve per alimentare la rete in quantitativo modesto. Adesso noi qua vedremo l'opera di disinfezione, ma viene naturale chiedersi e chiederle, dottor Martinelli, ma l'atmosfera, l'inquinamento atmosferico ha incidenza? Beh, certamente, certamente l'acqua in primis è acqua piovana, acqua di neve, chiaramente nel periodo invernale, e quindi raccoglie tutti quelli che sono gli inquinanti atmosferici. Oddio, qui abbiamo anche una depurazione, diciamo che poi il terreno, per fortuna, fa la sua parte. Cosa significa? Che per collando viene anche depurata da questi inquinanti atmosferici. Certo che l'atmosfera è anche altro, anche l'opera umana, diremmo, anche quella contribuisce. Questo giustifica la nostra stazione di disinfezione, perché possiamo avere dei batteri presenti. Quello che vediamo qui è una stazione di pompaggio. Dire il vero, questa stazione ha un doppio significato. Prima di tutto, di pompaggio delle acque in una situazione più a monte, ovviamente, che ha un significato appunto di deposito. E nel contempo, in questo deposito, avviene anche la disinfezione. Disinfezione significa monitorare, valutare l'inquinante biologico, la presenza di eventuali batteri, perché chiaramente l'acqua scorrendo, in questo senso, come si arricchisce di microelementi importanti, si può arricchire anche di batteri. E qui esistono dei dispositivi, chiaramente dei disinfettanti, per l'appunto che aggiunti hanno un'azione microbicida e quindi eliminare. Naturalmente, questa disinfezione non avviene stabilmente. La disinfezione avviene soprattutto in determinate stagioni. La stagione estiva, per esempio, perché la stagione estiva sappiamo che abbiamo l'alpeggio. Di questi dispositivi, questa è una pompa che eroga il disinfettante, ne facciamo un uso soprattutto nel periodo estivo. D'inverno, sostanzialmente, l'uso può essere modestissimo o addirittura non presente. Oh, vedete che intanto il nostro bravo chimico si sta asservendo in una caraffa targata acqua, vero Donato, di quest'acqua, molto leggera mi sembra, tra l'altro, vero Donato? Ha delle caratteristiche assolutamente peculiari. Tipico, direi, proprio la leggerezza di quest'acqua. E lo si può apprezzare proprio anche al palato. E allora adesso noi lo apprezzeremo e brindiamo subito a voi.